La legalità protagonista della diciottesima edizione di Pulcinella Mente al Teatro Lendi Sant'Arpino, la presentazione del quarto rapporto agro-mafia e sui crimini agroalimentari in Italia elaborato da Eurispes col diretti e osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare. A confrontarsi sui risultati di questo report sono stati il magistrato Giancarlo Caselli, il presidente del comitato scientifico dell'osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare e Gian Maria Fara, presidente Eurispes, con loro anche il sottosegretario ai beni culturali e al turismo, l'onorevole Antimo Cesaro. I lavori, coordinati dal giornalista Raffaele Sardo, sono stati aperti dai saluti del sindaco facente funzioni Aldo Zullo, quindi il direttore generale di Pulcinella Mente, il Pidio Iorio, e il garante etico della Kermesse, il magistrato Nicola Graziano. La presenza di un uomo simbolo della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, qual è il dottore Caselli, vero e proprio protagonista della storia d'Italia dagli anni 70 ad oggi, ha costituito senz'altro per gli alunni delle scuole presenti a Lendi l'occasione utile per poter ascoltare la testimonianza, ponendo anche domande ad un uomo che ha dedicato la propria esistenza per garantire l'affermarsi dello Stato di diritto senza mai cedere di un millimetro dinanzi alla prepotenza di mafiosi e terroristi.